ciao a tutti io sono Svetlana Marongio e questo nostro canale di youtube questo il canale di Vittoria e Svetlana Marongio in questo video noi impareremo a avviare le mali su ferri per ottenere questo effetto come potete vedere a punta o a denti come lo vogliamo chiamare ok questo avvio non è molto elastico quindi questo bisogna prendere in considerazione e soprattutto viene usato quando andiamo a proseguire con una maglia legaccio ok quindi per avviare mali in questo modo noi dobbiamo prendere certamente il filo e ferri il numero di mali dobbiamo per la prima volta avviare la metà di queste che vogliamo ottenere quindi se avviamo dieci mali poi avremo doppio ok per un campione avvio 15 mali che una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici e quindici ho detto prima che avremo doppio ma particolarità di questo avvio che per esempio adesso come giusto noi dobbiamo avere 30 ma particolarità di questo avvio che avremo sempre una maglia in meno poi si può sempre aggiustare con aggiungere una maglia nella lavorazione quindi partiamo con il nostro avvio la prima maglia di vivagno la prendiamo senza lavorare che dopo di che noi con ferro destro andiamo sotto lavoro in questo modo guardate proprio sotto agganciamo il nostro filo e lo portiamo in avanti la successiva maglia la lavoriamo a dritto e così noi andiamo a proseguire adesso noi di nuovo andiamo sotto le maglie che agganciamo le giriamo in avanti e lasciamo sul ferro la successiva maglia a dritto e così via noi andiamo a avviare le nostre maglia a dritto dopodiché andiamo sotto agganciamo il filo lo portiamo in avanti e lo lasciamo sul ferro la successiva maglia a dritto che adesso possiamo andare un pochino più veloce ok vedete in questo modo e una maglia a dritto una maglia andiamo vedete faccio vedere ancora lentamente andiamo sotto agganciamo il nostro filo rigiriamo sul davanti e lasciamo sul ferro e una maglia a dritto forse ho stretto troppo il primo giro ma questo è solo un campione quando arriviamo alla fine del giro ricordate che prima della maglia di vivagno noi dobbiamo fare sempre questa maglia in più che guardate lavoro adesso penultima lavoro a dritto e mi è rimasta maglia di vivagno quindi io vado sempre sotto aggancio il filo porto in avanti e la maglia di vivagno la lavoro a rovescio ok il nostro avvio è tutto qui il secondo giro giriamo il nostro lavoro allungo un attimino il filo così da allora e poi come avevo detto che è molto bello quando si lavora male a legaccio quindi prima maglia di vivagno si prende senza lavorare e poi tutte le restante maglie noi lavoriamo a dritto che quindi entro e passo a dritto entro e passo a dritto che avvio molto semplice e potrebbe vedete che si formano subito questi dentini di quale vi ho parlato prima ripeto che non è molto largo quindi si poteva si può usare come il bordo della gonna del maglioncino oppure anche come un coletto quando lo facciamo avvio dall'inizio oppure polsino quindi qualsiasi avvio che poi lavoriamo a legaccio questo questo avvio così col bordo dentato abilisce il vostro lavoro ok io adesso faccio un paio di giri e vi faccio vedere come si presenta poi nostro lavoro che arrivando ultima maglia e maglia di vivagno lavoriamo a rovescio se adesso noi contiamo le maglie li abbiamo 29 vi ho detto che particolar particolarità di questo punto non che però più raddoppia in modo esatto ma manca sempre una maglia per esempio se io adesso voglio fare un lavoro che me necessita 30 mali io quindi una maglia raggiungo strada facendo ok faccio qualche giro e poi ci rivedremo ho fatto un paio di giri con maglia legaccio e così si presenta il mio campioncino come vi ho detto prima che il bordo e non è molto elastico non è molto elastico anche perché io questo campione ho fatto di cotone lavorando con la lana certamente c'è da un pochino di più poi vi ho detto che ha dato maggior parte con il lavoro che parte con maglia legaccio ma si potrebbe fare anche un elastico 1 a 1 se qualcuno di voi non vuole come che vi faccio vedere come si lavora scrivetemi nei commenti facciamo un breve video anche per questo spero che questo video vi è piaciuto è stato chiaro e che voi questo avvio voi lo userete per avviare vostri bellissimi lavori io vi saluto tutti ci vediamo presto alla prossima ciao ciao